Disuguaglianze, contraddizioni e gender gap non sono solo figlie del lockdown e la convinzione della CGL di Pescara, che ad un anno dalla scomparsa della segretaria Emilia Di Nicola, tira le somme sulle problematiche di genere presenti sul territorio della provincia di Pescara. Si allarga la forbice tra uomini e donne sul lavoro e tanti sono gli indicatori, dice la CGL, che evidenziano la necessità di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle politiche di conciliazione vita-lavoro, soprattutto a favore delle donne. Dall'analisi svolta a Campione rispetto agli utenti che si sono rivolti al patronato inca CGL di Pescara, quasi la totalità delle domande di congedo parentale, il 98% di 600 pratiche, sono riconducibili alle lavoratrici madri che hanno scelto di farsi da parte e farsi quindi carico esclusivamente del lavoro di cura e assistenza familiare. Anche la politica dei bonus, continua la CGL, si è rivelata insufficiente. Solo 187 donne hanno scelto in piena pandemia di richiedere il bonus babysitter, la misura alternativa al congedo parentale. Le problematiche poi legate al turismo e alla contrazione dei servizi connessi ha fatto sì che molte donne abbiano pagato un prezzo alto rispetto alla pandemia. Elevato anche il numero degli infortuni sul lavoro con il 66% di quelli denunciati in provincia di Pescara riconducibili a donne lavoratrici. Comunque la donna è schiacciata fra due fuochi che è quello del lavoro di cura, il lavoro domestico e il lavoro agile perché il covid ci ha fatto scoprire lo smart working che di fatto è diventata una segregazione, una ghettizzazione della donna nel nucleo familiare e quindi è un eccessivo carico di lavoro e la città non sa rispondere ai bisogni che sono usciti fuori appunto con il covid. Perché? Perché non ha investito in infrastrutture sociali, non ha messo in piedi politiche di genere che siano appunto sulla conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro e perché di fatto quindi ha affidato il pilastro del welfare alla donna.